Sono Raffaele Logi, responsabile commerciale della business unit professionale audio-video di Ligra. Sono qua in veste di relatore a questo evento organizzato da connessioni insieme a Ligra e a Canon relativo alla comunicazione visiva del mondo museale. Siamo rimasti entusiasti della proposta di realizzare un evento di questo tipo che mirasse a presentare le nostre soluzioni agli operatori del settore, architetti, direttori di museo e similari e abbiamo colto l'occasione per presentare tutto il nostro portafoglio di soluzioni visive, professionali che vanno dagli scrami da proiezione, videoproiettori, monitor, led, tour, totem e tutto ciò che è a integrazione dei sistemi, quindi a completamento del risultato finale. La giornata è stata entusiasmante, un profilo molto alto dei partecipanti, un notevole numero di partecipanti, forse oltre le attese credo, fino oltre le attese, un contributo dei relatori molto professionale, di livello molto alto, con proposte di soluzioni realizzabili o realizzate veramente interessanti. L'Igra cerca di presentarsi come solution partner un po' a tutti i canali verticali, quindi un po' a tutti gli operatori del settore. La parte professionale degli architetti, dei professionisti, di quelli che possiamo clamare influencer è in questo momento abbastanza lontana da L'Igra. Abbiamo pochi contatti e quindi tutto ciò che ci permette di avvicinarci a questo mondo per L'Igra è molto interessante, le soluzioni professionali di L'Igra sono di fascia molto alta e quindi cerchiamo di avvicinarci a quelli che possono applicarle. Questo va molto d'accordo con l'etichetta che si vuole dare L'Igra di solution partner, cioè non vogliamo essere un box mover, non vogliamo semplicemente rispondere a una richiesta di acquisto, quindi a una consegna di un codice, ma vogliamo entrare fin dalla parte decisionale, quindi dare una mano a chi può proporre soluzioni per dare un ventaglio di proposte completo a 360 gradi, quindi andare dall'idea iniziale al risultato finale ed è in questo modo che pensiamo di raggiungerla, interfacciandoci direttamente con gli interessati del settore.